Buongiorno a tutti, la prendo da lontano ma faccio in fretta, Presidente. Era il dicembre del 1989 quando io partecipai, 17enne, al primo congresso nazionale, prim congresso nazionale, recitavo lo striscione in lingua lombarda, a Segrate. Capite che dopo 26 anni è un grande orgoglio ed onore per me essere io su questo palco a portare a questa grande platea il saluto della provincia di Monza e della Brienza. Ed è un orgoglio speciale perché proprio oggi dal nostro territorio provinciale trova espressione concreta l'uomo che si appresta nella giornata odierna a diventare la nuova guida della nostra Lega Lombarda. E non è un ruolo facile, non è un ruolo facile. I nomi che abbiamo avuto negli anni sono nomi che fanno paura da tanta l'importanza, da tanto l'impegno e da quanto il lavoro e i risultati ottenuti sul territorio, a cominciare chiaramente da Umberto Bossi. E sono sicuro che Paolo Grimoldi, come ha sempre dimostrato di fare, saprà fare egregiamente il proprio dovere. E voglio dire a Paolo che tutta la provincia sente con lui il peso e la grandissima responsabilità di ergersi a guida di tutte le altre splendide province del territorio lombardo, per una nazione lombarda che deve essere faro e guida per tutte le nazioni dei popoli padanoalpini, ancora alla ricerca del proprio suono di indipendenza. E forse, se posso permettermi, non è un caso che proprio dalla nostra provincia sia uscita questa persona. La Brianza ha saputo affrancarsi nel corso degli ultimi dieci anni da un gravissimo pericolo, non me ne vogliono gli amici milanesi, ma il nostro rischio era quello di diventare l'estrema periferia di un'area metropolitana di fronte alla quale non avremmo potuto fare altro che soccombere. Invece, grazie alla Liga Nord, grazie a Umberto Bossi, grazie a Cesarino Monti, abbiamo saputo conquistarci la nostra provincia istituzionale, anche se oggi il governo Renzi le sta calpestando le province. E questo perché? Perché i Brianzoli hanno saputo mantenere forte quel sentimento identitario innanzitutto. Quel sentimento identitario che ha saputo superare i problemi di un territorio fortemente urbanizzato, un territorio che ha subito una grande immigrazione, ha saputo raccogliersi e ritrovarsi intorno a quei valori e a quella forza che la nostra gente ha saputo trasmettersi. E in questo momento in cui ci troviamo a combattere nuove guerre, nuove sfide molto più grandi di noi, in questo momento dove è d'obbligo fare fronte comune con tutti gli altri popoli d'Europa, anche con i popoli italiani, non dobbiamo mai dimenticarci per non perderci e per non smarrirci che il nostro cuore, il nostro sogno, quando ci alziamo la mattina da 25 anni, ci svegliamo leghisti e ci guardiamo allo specchio la mattina, lo dobbiamo a quei valori che ci hanno fatto battere il cuore. E quei valori sono quello spirito di fratellanza che ci unisce, che condividiamo con gli altri popoli padano-alpini, perché il nostro cuore batte e batterà sempre a nord e a nord soltanto. E quindi sta a noi vincere questa grande sfida. La grande sfida è saper coniugare l'enorme consenso elettorale che la grande capacità di Matteo e la sua instancabile voglia di essere sempre presente ovunque con chiarezza e lucidità di idee, saperla coniugare su quelli che sono i nostri obiettivi che non sono mai cambiati. Questo striscione dietro di me recita quello che non è che un motivo, perché quando anche l'Italia ci avesse coccolato e ricoperto d'oro, noi saremmo qui lo stesso a chiedere la nostra indipendenza e la nostra autonomia, perché noi ci siamo risvegliati grazie alla scintilla di bossi negli anni Ottanta, quale popolo e quale nazione. Noi non siamo qui a chiedere i nostri soldi e basta, siamo qui a essere riconosciuti nell'alveo delle nazioni d'Europa insieme agli altri popoli padanoalpini. Questo è il punto di partenza e non può che essere il punto d'arrivo. Stiamo predisponendo una mozione che appoggi l'iter che viene seguito in questi giorni in Catalogna, che affianchi la sensibilizzazione verso la Catalogna per l'appuntamento che aspetta noi lombardi il prossimo giugno, che come ha detto Belotti mi pare e anche altri prima di me, è un appuntamento fondamentale. Stiamo facendo anche dei manifesti che riporteranno l'estelada catalana e la nostra bandiera lombarda, perché è ora di dare una sferzata approfittando di questo momento storico che può costituire un'occasione unica nella storia del nostro movimento. Forse ho già rubato troppo tempo, Guido vedo che mi guarda storto. Vi saluto tutti, vi ringrazio, ringrazio tutti i miei militanti, siate sempre orgogliosi di essere leghisti, sempre e soprattutto siate sempre uniti sotto la nostra bandiera. I nemici sono fuori dalla Lega, non sono qui dentro. Vi ringrazio, viva la Lega Lombarda, padagna libera.